insomma perché il segmento sul quale dobbiamo ancora recuperare è un po' quello. Per quanto riguarda le materie prime e il petrolio, quali sono i volumi e quali sono i obiettivi per... Beh sul petrolio diciamo i volumi diciamo sono in forte, hanno un po' ripreso. Noi serviamo un mercato di raffinerie molto ormai continuativo dal punto di vista del tonnellaggio che è il sistema delle raffinerie lombarde, non prevediamo capacità di crescita sul petrolio anche perché si prevede come dire anche una possibile diminuzione dei consumi. Quello che sta crescendo con percentuali del 20 e 30% sono gli oli e i prodotti per i cambustibili alternativi. l'olio di palma, gli oli vegetali che vengono utilizzati per il biodiesel, per il bioetanolo. Questi si sta assistendo ad una crescita molto significativa degli scambi di questi prodotti. Le cifre, abbiamo tutti i dati, sono qui, abbiamo tutti i dati, dovreste avercela in cartella con tutti i tonnellaggi e quintali. Eppure ne ha parlato al calo di volumi durante la crisi e ha detto che i volumi sono ritornati in 2010 già per tutto il mercato. Per i container, per i container. E quali sono rimasti indietro? Sono rimasti indietro l'anno scorso le materie prime, le materie prime, che però nei primi tre mesi di quest'anno stanno recuperando. La crisi pesante e i prodotti della siderurgia, ad esempio, metalli pesanti. Metalli pesanti si è avuta una flessione anche del 60% durante la crisi del 2009. Metalli per la produzione, tutta la parte siderurgica, il ferro, l'alluminio, tutta la parte che riguarda la grande industria pesante. E poi lei ha menzionato l'impatto della situazione in Nord Africa adesso, con la situazione in Libia, tra gli altri paesi, c'è un calo di surso di... Dunque per la Tunisia c'è stata una flessione per i primi 20 giorni, poi via via la situazione si è stabilizzata. Molto pesante è la Libia, perché voi sapete che gran parte dei prodotti importati dalla Libia venivano importati proprio dall'Italia. E venivano usati in particolar modo due terminal, storicamente, dai primi del Novecento che servivano la Libia, che sono il terminal Messina a Genova e il terminal Tarros alla Spezia. Lì siamo attorno a flessioni del 30%, 30-40%, perché chiaramente, diciamo, si è quasi paralizzata l'attività di scambio e di commercializzazione con quel paese. Quindi questo ha inciso molto, soprattutto su alcuni operatori, insomma. Ma è sempre solo petrolio o... No, 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 merci, 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 non petrolio, tutto, tutto, prodotti finiti, made in Italy, perché gran parte, ripeto, gli scambi commerciali con la Libia erano molto forti da parte dell'Italia, insomma, su tutti i settori. No, Messina è il nome del terminal, è il terminal Messina di Genova, gli armatori Messina di Genova. E' il gruppo Tarros che opera la Spezia, della famiglia Musso, la famiglia Messina, che dai primi del Novecento, tradizionalmente, questi due armatori, che sono entrambi genovesi, avevano avviato lo scambio con Nord Africa e con la Libia. Quindi non solo petrolio e petrolio? No, 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 tutti i prodotti, perché la Libia importava molto dall'Italia, dai mobili alle arredi, all'abbigliamento, quasi tutto fermo, quasi tutto fermo. Volevo sapere, con il discorso del terzo varico, se mai, diciamo, ci sono altri ritardi, c'è un piano B, cioè per potenziali collegamenti ferroviari esistenti o meno, l'altra cosa, se posso spiegare cosa sono queste arredi strade, del mare, ok. Sì, dunque, sulla questione del piano B, purtroppo non c'è, nel senso che è l'unica possibilità. Mentre, tra virgolette, si discute molto in Italia sul piano B della Torino-Lione, che sarebbe questo nuovo collegamento Genova-Marsiglia, con in corso il raddoppio della Genova-Ventimiglia, e poi, come dire, il raddoppio ferroviario sulla costa francese, tant'è che abbiamo recentemente anche costruito un progetto insieme al Sindaco di Nizza per migliorare i collegamenti ferroviari, diciamo, su tutto l'arco sud-europeo, diciamo, lato nord del Mediterraneo, sul terzo valico è l'unica infrastruttura che può, come dire, essere l'alternativa di penetrazione, diciamo, nord-sud. Per questo, per noi, è essenziale e vitale. Sull'autostrada del mare, l'autorotto della Mera, sullo short shipping, come viene definito, prima l'Europa interpretava questa modalità di trasporto una modalità importante per ridurre l'impatto del trasporto pesante su strada, su gomma. E quindi si interpretava questi collegamenti come solo un collegamento infra-europeo, con mezzi che caricano o i camion o i trailer direttamente da un porto, con autista o senza autista, e lo portano ad un altro porto, e quindi evitando l'attraversamento autostradale. Per rendere competitivo questo meccanismo dal punto di vista dell'abbattimento del costo per molti paesi, come l'Italia, ha introdotto l'eco bonus per finanziare l'abbattimento e agevolare questo utilizzo. Questi collegamenti, diciamo, funzionano abbastanza bene su alcune rotte. Penso la Civitavecchia a Barcellona, la Genova a Barcellona, alcuni collegamenti anche con Tarragona. Diciamo quelli che hanno un po' di maggiore distanza, funzionano un po' meno su rotte più brevi. Cioè un Marsiglia-Genova non funziona, insomma. Funziona laddove c'è una capacità di carico, una dimensione molto significativa. Ora la Unione Europea sta interpretando il tema dell'autostradia del mare anche in chiave non solo europea, in particolar modo nel traffico con Nord Africa. E quindi sta pensando di estendere le reti TEN attraverso una nuova rete infra-mediterraneo che riguarda i collegamenti con i porti soprattutto tunisini e marocchini. Perché quei paesi esportano e importano molto non solo col contenitore ma con il camion, col conducente a bordo. E quindi questo meccanismo dell'autostradia del mare funziona molto come elemento di collegamento. In più, soprattutto le compagnie nord-africane, penso alla compagnia tunisina Kotonav, costruisce navi promiscue per passeggeri e merci. E quindi, come dire, la modalità, magari ci sono dentro 700 camion e 500 passeggeri. Quindi ci vuole un porto attrezzato perché al momento d'arrivo, come dire, i due flussi si possano separare e si possa organizzare secondo questa concezione che è molto caratterizzante del mercato africano. Genova. C'è ancora questo progetto del tunnel supportuale che è in fase di revisione per una leggera modifica. Anche se in città, come dire, c'è una discussione molto aperta se mantenere o non la sopraelevata. Anche nel caso in cui si facesse il tunnel, magari facendola pedonale o meno. Perché la città è divisa su se volere o no la sopraelevata. Perché c'è lo svantaggio che ha un impatto ma c'è il vantaggio che percorrendo la sopraelevata come dire, vedi Genova in un modo che è unico. In qualche modo. Quali investimenti ci vorranno per aumentare la capacità di contenuta? Tratto di pentel. Quelli che stiamo facendo sono 600 milioni di euro. sono già in corso per fare i nuovi termini al container. E' finanziato dal governo? Sono finanziato in parte dal governo, in parte da tasse portuali e quindi da parte nostra l'accensione di credito bancario, mutui e capacità di indebitamento diretto dell'autorità portuale. Abbiamo da due anni costituito un'associazione che si chiama Ligurian Ports che mette insieme i tre porti. Per ora stiamo lavorando molto sulla politica del marketing, della presentazione ai mercati stranieri e stiamo lavorando molto su alcune collaborazioni per quel che riguarda ad esempio alcuni servizi, servizi ferroviari. Ad oggi non c'è una legge che consenta l'individuazione dei sistemi portuali. Da diversi anni in discussione al Parlamento una legge di riforma sulla portualità, l'ultimo testo prevede tra gli altri la creazione dei sistemi portuali. Quindi questo potrebbe agevolare molto la collaborazione. Ma la collaborazione diciamo tra l'istituzione e l'autorità portuale c'è e è forte. Chiaramente c'è la concorrenza dei singoli operatori che operano sul mercato sia nel porto di Genova che tra Genova e La Spezia anche se La Spezia ormai è diventato quasi esclusivamente un porto contenitore.